Di cui un consiglio da dare a aspiranti fotografi e magari se ti viene in mente un libro da leggere o qualcosa che possa essere utile. Beh, penso che possa essere utile ai fini proprio del fotografare. Bene, ma non saprei consigliare altro che vivere e motivare l'interesse per i soggetti che si fotografano, cioè evitare di cadere nella trappola, innanzitutto dalla facilità e della velocità del mezzo che si può usare oggi, ma soprattutto di non percorrere strade già battute perché, e dico un'altra banalità, siamo oberati, siamo saturi di immagini, ormai c'è un livello di abilità nel presentare anche il nulla, di confezionare anche niente, che te lo rende interessante e guardabile. Quindi su quel fronte direi di non perdere tempo, ma di partire da quello che si conosce, di partire dalle persone che si conoscono, dalla realtà che si conosce e di essere meno turisti nel fotografare. Quindi di approfondire, di dedicare tempo a qualunque idea o progetto che uno abbia. Libri da leggere direi niente, di camminare per le strade, quando si potrà, viaggiare, entrare nei musei, guardare la pittura, guardare l'arte, guardare la natura e magari poco i libri di fotografia. Proprio per rimanere, anche per riuscire a mantenere una freschezza, è la cosa più difficile da mantenere nel lungo periodo. Ci sono dei fotografi fantastici, ecco, di questi io consiglio di andare a vedere le immagini, come per esempio Nino Migliori, che ha più di 90 anni, ma è uno sperimentatore incorreggibile e inesauribile. È partito dal bianco e nero negli anni 50, poi è passato attraverso fasi del colore, la sperimentazione, i grafismi, Photoshop, il digitale, le Polaroid. Ecco, prendere esempio da chi non si ferma in un quadrato, ma cerca sempre di alzare l'asticella.